ciao a tutti e a tutte in questo video vi faccio vedere come modifico questo corpetto che ha utilizzato per uno per uno spettacolo e andrò a levare la chiusura che c'è e al suo posto mettere una chiusura lampo quindi per prima cosa vado a sfucire nel centro davanti con l'apposito attrezzo quella chiusura fatta di metallo sono proprio due strisce di metallo che sono praticamente cucite fra due pezzi di stoffa quindi sia a destra che a sinistra ci sono appunto questi supporti molto rigidi che comunque utilizzarlo diciamo anche per un'occasione è abbastanza scomodo quindi sono andata a sfucire e a tirare fuori questa questa chiusura da un lato ci sono appunto le asole dall'altro una sorta di bottoncini sempre in metallo quindi ho fatto questa operazione da tutte e due i lati con un po di pazienza perché insomma era cucito molto bene ho piano piano scuscito e sfilato la chiusura ecco qui si vede quello che c'era all'interno della cucitura adesso vado a fare la stessa identica cosa dall'altro lato dove ci sono i bottoncini ecco qui ho tolto tutto e adesso procedo allora nella fessura diciamo tra le due stoffe dove era incastrata quella striscia di metallo vado ad inserire la chiusura lampo ho preso una chiusura lampo che ovviamente si apre da sotto quindi che cosa faccio dalla parte inferiore inserisco la parte della chiusura lampo e l'appunto con gli spilli è tutto nero quindi mi rendo conto che si vede poco però insomma è molto semplice perché proprio tra le fessure tra tra il tessuto dove appunto c'era quella stanghetta di metallo ci entra perfettamente la chiusura lampo ho preso una di queste diciamo un po più grandi rispetto a quelle solite che usiamo appunto come ho detto con la cerniera che si stacca che si stacca appunto nella parte inferiore e che poi si si aggancia come un giacchetto quindi appunto sia la parte destra che la parte sinistra volta inserita alla chiusura lampo sulla parte superiore taglio l'eccesso perché appunto era più lunga e poi vi farò vedere come ho deciso di fermarla perché altrimenti il cursore non avendo i gancetti finali e scorrerebbe via quindi per ora l'appunto con gli spilli e poi vi farò vedere come ho fatto dopo aver applicato la chiusura lampo imbastendola l'ho cucita a mano perché la mia macchina non è una macchina professionale quindi il tessuto abbastanza spesso e non sono riuscita a fare la cucitura con la macchina però ho fatto un punto nascosto a mano con il filo nero e non si vede nulla sia da una parte che dall'altra poi oltre al fatto che qui la cucitura nella cucitura c'era quella stecchetta di alluminio che vi ho fatto vedere prima che era la chiusura in ogni cucitura laterale e dietro c'erano queste stecchettine ho fatto un buchino e la tirate fuori c'erano queste stecchettine di plastica che davano rigidità al corpetto ma lo rendevano appunto troppo rigido e scomodo da indossato e quindi ho deciso di toglierle dappertutto facendo una piccola incisione qui squicendo sotto in prossimità appunto di dove era la stecca e sfilandole e sono venute via facilmente per quanto riguarda la parte superiore questo è appunto la scolatura a cuore qui sotto c'è la chiusura lampo che andrò a chiudere per farvi vedere ecco qui nella parte superiore per non far uscire il cursore ho messo una pallina di colla a caldo che posso lasciarla così anche diciamo trasparente perché non si vede o se no la posso anche dipingere di nero con lo smalto però non ce n'è bisogno e questo fa in modo che il cursore non scappi fuori alla fine che altro per adesso diciamo le uniche modifiche sono state queste e qui ci sono non si vedono tantissimo i forellini dei gancetti che c'erano prima e qui posso decidere di applicarci sopra dei bottoncini degli svaroschi ovviamente poi anche dalla parte opposta diciamo ma vedrò insomma magari che colore scegliere oppure lasciarlo così anche perché non si vede però per fare una cosa più carina rifinita anche per dare un tocco di colore e posso applicare appunto dei bottoncino degli strass quindi per adesso e diciamo la modifica è finita una semplice modifica che però mi permette di poterlo riutilizzare magari con sopra un bollerino un giacchettino in modo da poterlo sfruttare di nuovo oppure magari mettendo sotto un body di quelli intimi trasparenti in modo che sulla parte da davanti qui sopra il seno magari si è coperti da l'effetto appunto trasparenza e secondo me anche per una cerimonia può andare bene invece indossato così con sopra magari un giacchettino corto bianco e sotto un paio dei jeans può anche essere una soluzione per anche andare a ballare una sera d'estate o andare comunque in giro con le amiche poi è appena possibile vi farò vedere indosso come sta ecco ho scelto di applicare questi svaroschini piatti li ho presi con la pinza ho messo sotto un po di colla e le adagiati da una parte proprio a coprire quel buchino che vi ho fatto vedere prima e in corrispondenza l'ho messi anche dall'altra parte e quindi qui ho risolto in questa maniera sono comunque piccolini discredi e danno diciamo un piccolo tocco di luce poi da qui non so se si vede ma comunque sono proprio svaroschi questi ciao 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 ciao